Buongiorno, bentornati a una nuova puntata di Macro. Io sono Michela Finizio e oggi parleremo di Giappone. Vi porterò in un paese appunto lontano, ma scopriremo che è un paese in realtà molto più simile al nostro di quanto possiamo immaginare, quantomeno stando ai dati demografici, perché oggi parleremo di demografia e in particolare delle somiglianze forse che il nostro paese ha su alcuni dati demografici come l'aspettativa di vita, l'invecchiamento progressivo della popolazione e la difficoltà insomma di invertire la rotta della denatalità. Sono dati che ci accomunano ovviamente con tantissime differenze. Ne parleremo con gli ospiti che abbiamo in studio. Ve li presento subito perché abbiamo innanzitutto con noi il console generale del Giappone che ha accettato l'invito, Toshiaki Kobayashi. Grazie di essere qui con noi. Per me è un onore averla qui per parlare di un paese che lei rappresenta. Grazie. Grazie a voi. Il nostro demografo Alessandro Rosina, dico nostro perché è un editorialista del Sole 24 Ore ormai da anni. Grazie Alessandro di essere qui. Grazie, buongiorno. E poi parleremo con altri due colleghi del Sole 24 Ore di questo argomento. Innanzitutto la mia collega Alexis Paparo. Grazie Alexis di essere qui con noi. La presento perché l'ho voluta io qui perché Alexis è tornata davvero da pochissimi giorni da un viaggio in Giappone. È stata tre settimane nel paese quindi ci racconterà le sue impressioni e che cosa ha visto e ci aiuterà anche a un po' raccogliere i commenti dai social network. Ciao Alexis. Grazie, buongiorno. E poi parleremo anche con il nostro collega esperto di tecnologia Luca Tremolada di quello che è l'impatto dell'uso delle tecnologie nelle nostre vite e se questo aspetto ha o no un legame con la demografia e quindi anche un'opportunità per questo calo demografico. Andiamo subito nel cuore dei dati demografici del Giappone per vedere insomma quali sono i trend di cui parleremo oggi. Chiedo alla regia di proiettare le slide che abbiamo preparato e che sintetizzano a livello macro insomma quali sono i dati che il Giappone ha sulla popolazione. Stiamo parlando di una popolazione che si attesta a 124 milioni di persone. Oltre insomma oltre mezzo milione di persone sono diciamo in calo in meno rispetto dal 2021. È il dodicesimo calo progressivo che il Giappone vive negli ultimi anni. Quindi diciamo che il declino demografico è in corso da 12 anni in quel paese. La popolazione in età attiva è scesa e quindi la popolazione diciamo candidata a diventare la mano d'opera è scesa così come quella sopra i 65 anni ha raggiunto dei numeri da record e quindi insomma si invecchia sempre di più. Allo stesso tempo il numero di neonati e quindi quindi di nuovi nati nel paese è sceso sotto gli 800 mila per la prima volta da quando sono iniziate le indagini demografiche nel Giappone nel 1899. Quindi anche loro come l'Italia hanno raggiunto quel dato record e ogni anno ne raggiungono insomma un dato record negativo delle nascite che è appunto anche un dato che accomuna il nostro paese visto che quest'anno siamo scesi anche noi sotto la soglia dei 500 mila nuovi nati. Il tasso di fertilità del Giappone è sotto l'1,3. Vedremo che in realtà è un dato anche questo proprio su tutte le nazioni ricche è un dato record molto simile a quello italiano che addirittura è 1,2 quindi più basso 1,24 quello italiano quindi 1,24 figli per donna e abbiamo anche un dato molto simile nella Corea del Sud ma questi tre paesi in tutto il mondo nelle nazioni ricche insomma sono quelli accomunati da un tasso di fertilità tra i più bassi. Poi continuando insomma parlando di record demografici del Giappone parliamo di un'età anziana, una popolazione anziana sempre più grande quindi passiamo alla seconda slide dove vediamo i dati sulla popolazione superanziana che è definita così quando raggiunge almeno il 20 per cento della popolazione e i centenari del Giappone hanno raggiunto il record dei 92 mila questo precisamente insomma da da poco perché è un dato molto recente di settembre e questo aspetto insomma anche noi abbiamo delle proiezioni demografiche che parlano di persone centenarie nel nostro paese in crescita progressiva. A questo punto la carrellata va avanti posso far vedere giustamente alcune slide per entrare nel dibattito che raccontano come l'età media della popolazione sia in aumento vediamo alcuni grafici se la regia riproviata la slide successiva è quella in cui si vede che il Giappone e l'Italia hanno un'età media tra le più elevate e alcuni titoli di giornale in cui si può vedere titoli di giornali internazionali si può vedere che il tema è trattato un po' da tutte le parti perché ne ha scritto il Guardian parlando delle 800 mila nascite del Giappone ne ha scritto anche insomma del Japan news sulla fertilità che aggiunge dei dati molto più bassi e poi vediamo un ultimo pezzo della CNN che riporta delle parole insomma del primo ministro giapponese che dice bisogna intervenire now or never cioè adesso mai più e quindi praticamente quello che si dice anche in Italia in queste ore perché stiamo preparando la manovra di bilancio e il nostro governo è proprio in queste ore impegnato per approvare una serie di misure l'hanno dichiarato anche i ministri a favore della natalità per sostenere la natalità nel nostro paese quindi entriamo subito nel dibattito direi innanzitutto di far commentare questi dati dal console del Giappone che a cui chiedo immediatamente se questa diciamo carrellata di numeri anche queste somiglianze con il nostro paese la stupisce sono dei dati che ovviamente lei conosce bene perché conosce il suo paese ma le queste somiglianze con l'Italia che poi appunto la vede qui in questo periodo lo ritiene insomma un con stupore lo vede con stupore o lo se lo aspettava beh la diminuzione della popolazione giapponese era già prevista negli anni 90 anzi negli anni 90 il governo giapponese ha iniziato di prendere qualche misura per allentare questa riduzione demografica quindi però il caro demografico è così è attuale veloce è attuale quindi negli ultimi tempi abbiamo aggiunto alcune misure politiche per stoppare cercare di invertire la rotta diciamo invertire è un po difficile ma stiamo facendo tutti gli sforzi e quali sono le misure che recentemente avete deciso di mettere in campo per proprio cercare di rallentare questa curva ebbè prima di tutto ci sono due fenomeni cioè l'invecchiamento della popolazione e allo stesso tempo il numero delle nascite in calo quindi bisogna prendere delle misure per risolvere tutti e due problemi certo e sul fronte delle nascite che poi è un argomento molto attuale in Italia immagino che stiate cercando di sostenere le famiglie per cercare di fare più figli o comunque di aumentare quel tasso di fertilità sì infatti sono state adottate varie politiche per sostenere la natalità negli ultimi anni chiamate panoramica della contromisure per una società segnata dal caro della natalità per esempio posso citare per esempio sostegno al matrimonio che è nato dal 2021 il governo fornisce una parte delle risorse per i fondi di sostegno dei governi locali dedicati ai novelli sposi l'avvio della vita matrimoniale con un supporto massimo di 300.000 yen che equivale a circa 2.000 euro per coppie di età inferiore a 40 anni e con un reddito minore di 4 milioni di yen circa 25 mila euro per anno un contributo economico quindi per avviare una famiglia quindi una parte economica che viene data in caso di matrimonio quindi dal 2021 in Giappone sì poi abbiamo un sussidio per il sostegno alla gravidanza e al parto dal 2022 cioè l'anno scorso contributo per le spese legate al parto e all'assistenza all'infanzia fino a 100.000 yen circa 600 euro al momento della registrazione della gravidanza o del parto poi forse posso dire che conciliazione del lavoro e cura dei figli che è destinata a promuovere la partecipazione degli uomini ai lavori domestici e alla cura dei figli quindi eliminate le liste di attesa per l'iscrizione agli asili nido ampliando l'offerta avete liste d'attesa anche per gli asili nido? soprattutto in Tokyo, a Tokyo ok, non si trovano posti anche a Tokyo negli asili nido è un tema che sentiamo molto anche qui a Milano e in tantissime città italiane sì, è un grande problema la prima cosa insomma è intervenire anche nel facilitare la vita la conciliazione al lavoro vita delle neomamme e dei neogenitori insomma sì poi posso aggiungere un sostegno economico cioè assegno familiare, sostegno allo studio per l'istruzione superiore istruzione gratuita per la prima infanzia e assistenza alla infanzia queste sono misure recenti diceva, le avete approvate dopo? sì, queste sono dal 2019 quindi vi aspettate di vederne dei frutti nei prossimi anni insomma? sì, esattamente bisogna aspettare ancora un po' però si è deciso di intervenire quindi lo vivete come un tema da affrontare avete deciso di affrontarlo così ma è stato insomma lungo decidere come intervenire o una volta che avete capito che era un problema avete deciso subito di affrontarlo? sì sono diversi anni che portate avanti queste politiche quindi adesso le avete rafforzate sì certamente perché questo problema è così profondo che influenzerà il nostro destino certo come paese a questo punto do la parola subito al professor Rosina che appunto come demografo davanti a questa carrellata di misure che il console ci ha elencato noi sappiamo che in Italia ne abbiamo ovviamente alcune abbiamo l'assegno unico per i figli e stiamo discutendo di qualcosa che può essere approvato a breve insomma nel proprio per sostenere la natalità quali analogie però vedi tra questi due paesi a livello sia demografico ma anche di politiche che vengono messe in campo? beh la questione come ha detto il console è profonda e non semplice quindi tutti i paesi del mondo avanzato si trovano con questa difficoltà perché se si vuole evitare gli squilibri bisognerebbe avere una fecondità numero medio di figli vicino a due attorno a due e nessun paese di quelle delle economie mature avanzate riesce a mantenere quel livello sono tutti scesi sotto quindi anche la Svezia anche la Francia anche i paesi occidentali che maggiormente investono sulle politiche comunque hanno una fecondità insufficiente a garantire un esatto equilibrio tra generazioni però quello che fa la differenza è quanto sotto scendi rispetto a questo valore di riferimento e quindi come avete fatto vedere ci sono alcuni paesi come Giappone e l'Italia ma potremmo aggiungere anche la Corea del Sud e anche la Spagna tanto per avere le due aree geografiche che si trovano comunque nella stessa situazione e anche altre e qui quindi c'è la questione sono due aree che nella diversità sono simili nel tema da affrontare e quindi anche nella necessità di capire quali politiche mettere in campo perché alcune politiche valgono in generale altre devono essere specifiche perché devono riconoscere anche gli aspetti culturali del territorio e come farli funzionare se dovessi ragionare un po' sulla similitudine fra Giappone e Italia bisognerebbe partire un po' dalla seconda guerra mondiale dal boom economico del secondo dopoguerra che ci ha accomunato cioè il disastro della guerra mondiale l'abbiamo vissuto entrambi la necessità di ricostruire l'abbiamo vissuto entrambi il miracolo economico cioè della capacità di crescita e nei quelli che avevano chiamati 30 gloriosi cioè gli anni 50, 60, inizio degli anni 70 ci ha sostanzialmente accumunato pur con modelli culturali ed economici diversi e lì è stato un momento in cui questi due paesi si sono riconosciuti nella propria capacità di sistema paese di guardare con coraggio verso il futuro con positività nel confronto del futuro di incoraggiare nuove generazioni anche alla mobilità sociale di espandere anche quindi anche la formazione le opportunità di lavoro i diritti il sistema di welfare e quindi sono due paesi che si sono molto riconosciuti in quella fase storica e quindi è come se si fossero ancorati un po' a quel modello e hanno avuto difficoltà a rimetterlo in discussione quando il mondo stava cambiato e nel momento in cui questo mondo stava cambiando cioè dagli anni 80 in poi ci sono state alcune politiche che non si è riuscite a incanalare nel verso giusto per aprire un nuovo modello di sviluppo che funzionasse in questi due paesi ovviamente a proprio modo e quindi si è formata se noi guardiamo anche sia il Giappone che l'Italia pur nella loro diversità cioè negli anni 80 c'era un ceto sociale medio benestante che grazie a questi tre decadi di crescita nel secondo dopoguerra ha accumulato ricchezza, benessere e si era riconosciuto in quel modello e ha fatto difficoltà poi a rimetterlo in discussione per iniziare una fase nuova dove bisognava rimettere in discussione anche il modello di welfare si fa anche il modello sociale oltre che il modello di sviluppo e il modello di famiglia anche se e anche il modello di famiglia e su questo la difficoltà ha intrecciato questi aspetti uno la capacità economica di crescere si è indebolita in entrambi i paesi e quindi con quella spinta verso il futuro soprattutto per le nuove generazioni che arrivavano si è indebolita la propria capacità dalla propria formazione a vedere riconosciuto un proprio percorso di contribuire a un paese che cresceva e quindi anche una classe sociale media che si trovava in difficoltà secondo aspetto, questo è il primo aspetto secondo aspetto che accomuna un po' tutti i paesi e le società moderne avanzate è che si è passati dal fatto che nel modello tradizionale i figli semplicemente arrivavano cioè tu formai una famiglia e i figli arrivavano e semmai la decisione era riduco il numero di figli cioè i figli arrivano ma anziché averne cinque, quattro ne ho tre, due questo era il modello degli anni cinquanta e sessanta cioè il modello borghese delle società avanzate eccetera adesso non funziona più così perché la tracciazione che copre in maniera efficace che è una novità dagli anni sessanta e settanta in poi e anche l'atteggiamento della nuova generazione l'emancipazione femminile, dei giovani eccetera fa sì che se tu non scegli di avere figli quindi non è che parti da tre o quattro o cinque e li riduco tu parti da zero e semmai devi decidere di averne cioè di aggiungerne ed è diverso come meccanismo nel processo decisionale il che vuol dire che se non succede niente cioè se tu non vedi un incoraggiamento a farlo a una propria famiglia al fatto che le scelte che fai formative e professionali funzionano che all'intorno hai una comunità che accoglie questa scelta che la riconosce e che fa politiche di supporto beh allora quella scelta quando è desiderata può essere realizzata mentre se queste politiche sono deboli cioè se non interviene esplicitamente con politiche che assegnano un valore sociale a questa scelta e la sostengono oggettivamente riducono il costo da un lato e riducono anche le difficoltà organizzative della famiglia dall'alto nel momento che arrivano i figli in una società che è sempre più complessa e il rapido cambiamento il rischio è che quella scelta pur desiderata rimane in sospeso ma poi il tempo passa e alla fine ti trovi a non averla fatta ed è così che l'età media sale l'età media del primo figlio il secondo punto quindi all'orientamento alla crescita economica il cambio proprio del processo decisionale rispetto all'avere figli il terzo punto è un cambiamento anche nei ruoli cioè rispetto al modello tradizionale in cui l'uomo lavorava anche in Italia negli anni 50-60 il modello era quello della fabbrica il salario del marito padre era sufficiente a mantenere una famiglia da avere figli e garantire benessere e consumi poi il mondo cambia quel reddito lì non basta più le donne si formano e arrivano a titoli di studio addirittura maggiori rispetto ai quali tani maschi hanno anche aspettative maggiori di valorizzazione al di là del ruolo familiare e domestico e cambia anche l'economia non è più quella della fabbrica è quella del mondo dei servizi dei settori più ampi dove appunto il capitale umano femminile può trovare un incoraggiamento e quindi anche vuol dire che le famiglie da un lato c'è la realizzazione femminile ulteriore rispetto alle mura domestiche c'è una seconda entrata nelle famiglie e quindi difendi il tuo benessere e poi in una società che invecchia ampli la platea di chi contribuisce a mantenere una forza lavoro consistente ecco il non aver investito lo dico per l'Italia e in parte per il Giappone mentre la Svezia l'ha fatto fin da subito e gli altri paesi un po' l'hanno seguito in maniera a aver accompagnato queste trasformazioni cercando di rimettere in discussione il proprio modello di welfare e in Giappone e in Italia è stato difficile perché era ancorato quel modello tradizionale quell'economia degli anni 50 e 60 che funzionava così bene che sembrava che l'unica cosa da fare fosse mantenerlo più a lungo possibile mentre gli altri paesi l'hanno rimesso in discussione nel rimetto in discussione hanno investito sulle politiche di conciliazione cioè se aumenta l'occupazione femminile cosa dobbiamo fare? fare in modo a lasciare che l'occupazione femminile vada ad avere effetti negativi sul formare una famiglia ad avere figli no, serve un modello che le mette insieme cioè queste due scelte cioè le scelte delle persone quando desiderano farle devono trovare strumenti come dire coerenti con i nuovi tempi perché queste scelte possano essere realizzate e quindi investire sui servizi per l'infanzia e quindi sui nidi investire sui congedi non solo di maternità e paternità e poi investire sulle politiche aziendali di welfare, sul part time eccetera ecco diciamo che su questo sono gli argomenti di cui parliamo oggi siamo rimasti un po' più indietro e bisogna recuperare bisogna poi accelerare con tutte le differenze anche culturali perché c'è anche un modello culturale da cambiare e non è così semplice sia per l'Italia che per il Giappone è un modello di divisione di genere che va superato anche attraverso le politiche e ha bisogno anche di tempi adeguati si ritrova Consule in questo racconto che ha fatto il professor Rosina ritrova un po' di Giappone in questo racconto capisce che questo racconto riguarda anche il Giappone sì esattamente è proprio così tutti noi sappiamo questo però ognuno ha la libertà di avere i figli o non avere i figli quindi è molto difficile cambiare un movimento così grande questa tendenza diciamo noi mi ricordo più di una volta quando abbiamo affrontato il tema della natalità si ragiona sul fatto che quando diventa un sacrificio mettere al mondo un figlio già lì c'è il problema perché bisogna risolvere è un sacrificio quindi se ne fanno meno perché non deve essere un sacrificio ma la società ti deve permettere di essere nelle condizioni di poterlo scegliere senza percepirlo come tale passo la parola ad Alexis che appunto è stata lì qualche settimana fa e quindi è molto fresca la tua impressione del Giappone mi sembra di aver capito dal tuo racconto che ci siamo fatte tra i corridoi prima di questa diretta che però ti è apparso come un paese family friendly cioè che ci sono in realtà molte attenzioni per i bambini in città così come nelle aree più rurali giusto? sì Michele esattamente allora io ho fatto un viaggio di circa tre settimane e molto bilanciato tra città e dentro terra o comunque zone più rurali e devo dire che diffusamente ho notato la presenza di servizi per le famiglie o anche semplicemente c'erano anche tanti nonni con i bambini quindi anche per i bambini in generale che mi hanno fatto appunto un po' percepire una differenza rispetto all'Italia per entrare nel concreto tutti i musei che abbiamo visitato ma quello potrebbe far pensare alla parte turistica però anche degli uffici pubblici dove c'è capitato di entrare o anche parchi magari un po' più defilati quindi non i parchi più noti a livello turistico avevano servizi per i bambini nel senso di bagni pubblici con sia parte uomini sia parte donne con il seggiolino per far stare il bambino in attesa con zone per l'allattamento, zone per il cambio dei bambini questo in tutti i luoghi che abbiamo visitato ma poi anche in per esempio i centri commerciali più grandi cioè c'erano proprio spazi dedicati pensati per i bambini anche in metropolitana Tokyo ho notato questa zona diciamo colorata differenziata per famiglie quindi con doppio anche triplo a volte perché i passeggini lì sono molto più piccoli molto più stretti per mettere i passeggini quindi un'area dedicata con non i sedili da un lato ma tutta la parte passeggini e lato sedili dall'altro per stare con i bambini più grandi quindi un'area proprio dedicata per loro un'altra cosa che mi ha lasciato mi ha fatto insomma percepire la differenza rispetto all'Italia è la grande autonomia dei bambini piccoli anche piccolissimi quindi 3-4 anni che tornano a casa da soli perché si percepisce un senso di sicurezza e come se un po' tutto il paese fosse quasi responsabile comunque si prendesse a cuore il fatto di fare un po' da guardiano per questi bambini che tornano a casa da soli alcuni avevano i più piccoli una sorta di etichetta sul cappello e sullo zaino penso con l'indirizzo nel caso in cui dovessero perdersi però tornavano tutti noi per tre settimane abbiamo visto tutti i bambini che tornavano a casa da soli poi ci sono degli attraversamenti segnalati comunque tutta una parte molto di segnaletica ma anche di vigili dedicati all'attraversamento dei bambini questo sia in entrata che in uscita ma anche in zone rurali così come a Tokyo quindi insomma un attenzione che molto attento e molto family friendly come paese quindi c'è molta attenzione mi viene da passare subito la parola ad Alessandro Rosina ma quindi non basta essere un paese family friendly e avere così tanta cura per l'attenzione insomma dei bambini nelle città per invertire la famosa rotta della denatalità visti anche poi i dati del Giappone è condizione necessaria cioè fa parte di un contesto che è favorevole rispetto a quella scelta ma all'interno della quale devi inserire la tua scelta e sono vari studi che fanno vedere come molto dipenda dalla condizione dei giovani dalle aspettative che i giovani hanno rispetto al proprio futuro nel territorio e nel paese in cui vivono e dai ruoli di genere cioè i paesi che hanno ruoli di genere più equilibrati hanno anche una fecognità più elevata e anche un'occupazione femminile più elevata cioè c'è stato un cambio rispetto al modello di cui parlavamo quello tradizionale è cambiato proprio il rapporto fra demografia e economia e quindi se si riescono a combinare equilibrio di genere non è un caso che sia così che anche si prenda un Nobel studiando appunto i ruoli di genere e l'equilibrio di genere perché è fondamentale nelle società in cui viviamo un equilibrio nei rapporti quindi quando c'è una condivisione nei ruoli come nei paesi scandinavi e nei paesi europei meno nei paesi mediterrani meno in Giappone probabilmente si può dire il console però ci sono molte ricerche che lo fanno vedere c'è una resistenza sostanzialmente a un modello più equilibrato nei rapporti di genere questo va a comprimere la fecondità della scelta di avere finito e in più poi c'è la condizione dei giovani anche su questo adesso ci stiamo muovendo su aspetti culturali su cui per me è più facile parlarne nel senso dell'Italia e meno del Giappone però a differenza dell'Italia c'è una difficoltà dei giovani a vedersi come parte di un modello in cui si sentono protagonisti e che quindi li incentivi a fare scelte anche che vanno oltre e che decidano poi di avere un'autonomia e formare la propria famiglia e di avere figli e il modello giapponese è da sempre molto meritocratico e quindi dà una forte responsabilità ai giovani stessi del proprio destino e cioè della necessità che il destino dipenda da quanto loro si impegnano da quanto studiano da quanto fanno ma se questo funzionava negli anni 50 e 60 in cui l'economia cresceva e c'era mobilità sociale un modello meritocratico in cui l'economia cresce di meno e ci sono difficoltà e disuguaglianze che non si superano rischia di creare anche molta frustrazione e questo rischia anche di creare un po' delle tensioni e delle difficoltà dei giovani stessi come generazione a sentirsi parte di un paese che ha una propria identità piena nelle sfide del proprio tempo e che mette al centro i giovani per cogliere queste sfide ecco c'è secondo me c'è una difficoltà sia dei giovani italiani che i giovani giapponesi a sentirsi parte attiva di un progetto di sviluppo che manca in cui fanno fatica a riconoscere e questo frena anche le scelte poi di vita Ricordo che in uno dei tuoi articoli l'avevi chiamato degiovanimento del paese e può essere diciamo una parola magari un po' ostica da dire ma in realtà che rappresenta un po' tutti e due i paesi chiedo direttamente al console se in Giappone i giovani percepiscono questa difficoltà nel mettere su famiglia e cosa qual è il modello di famiglia e cosa state facendo per cercare di dare l'opportunità a questi a questi giovani del crescere e sentirsi insomma di poter avere un futuro stabile io penso che rispetto al passato il numero dei giovani che vogliono sposarsi è in diminuzione quindi senza il matrimonio non c'è bambino e questo è un punto molto importante certo poi per varie cause economiche soprattutto molti giovani esitano di fare bambini perché si fa fatica economicamente economicamente per quello che avete messo in campo anche dei contributi economici perché c'è questa necessità insomma anche di sostenere il momento economicamente insomma di questa scelta e l'immigrazione che ruolo ha in questo ovviamente noi abbiamo sappiamo che la demografia è influenzata anche dai flussi migratori insomma il Giappone come l'Italia ovviamente hanno una storia di politiche migratorie molto differenti però viene in qualche modo vista come una leva possibile per compensare il calo demografico della popolazione residente si è proprio ciò che il nostro governo sta pensando il numero di stranieri che lavorano in Giappone è in aumento ha aggiunto il picco di 1,82 milioni nel 2022 cioè l'anno scorso soprattutto nei settori con carenze con carenza di manodopera i quali assistenza infermieristica edilizia comparto manifatturiero imprese di pulizia eccetera eccetera e poi nel 2019 il governo giapponese ha introdotto un nuovo permesso di residenza per i lavoratori altamente specializzati con periodo massimo di permanenza di cinque anni questo permesso è dedicato ai lavoratori stranieri con un certo livello di esperienze e competenze tecniche in particolare per i settori industriali nei quali è più difficile reperire le risorse umane questa categoria di permesso di residenza consente ai titolari di cambiare lavoro cioè entro classi di impieghi professionali con livelli di competenze omogenei cosa che in precedenza non era premessa e prevede anche che le imprese che assumono il supporto dei propri dipendenti stranieri questo è molto importante in un paese che fatica a trovare manodopera perché il calo della popolazione in età attiva determina un po' questo lo vediamo in Italia e immagino anche in Giappone la fatica di trovare insomma delle candidati per posti di lavoro magari in alcuni settori dove i giovani faticano di più a inserirsi quindi è chiaramente un tema molto rilevante in pieno inverno demografico e su questo appunto lei mi dice stiamo cercando di trovare nell'immigrazione insomma una leva per compensare questo aspetto chiedo direttamente ovviamente a Rosina ma quanto quindi questo calo demografico può diventare una minaccia per la crescita economica di un paese? sì qui adesso ci stiamo in parte spostando sulle conseguenze sulle implicazioni della denatalità che porta a squilibri demografici che poi hanno delle conseguenze sociali ed economiche e qui si può rispondere sia invertendo la tendenza delle nascite con le politiche familiari o evitando che le nascite diminuiscano troppo se non si riesce a invertire la tendenza e l'Italia sta entrando un po' in questa situazione cioè di una trappola demografica che rischia per quanto investiamo sulle politiche familiari di non riuscire più a invertire la tendenza perché si stanno riducendo troppo le donne e le coppie in età fertile e quindi se non agiamo subito il rischio è che dovremo solo semplicemente correre ai ripari e cioè evitare che le nascite diminuiscano troppo e poi che cosa fare? allora il Giappone su questo ha un aspetto più problematico cioè che vivono più a lungo e quindi la conseguenza che la popolazione anziana aumenta di più e quindi il carico degli anziani sulla popolazione in età lavorativa che si riduce è maggiore ma l'Italia non è molto lontana, cioè siamo simili, però il Giappone è più accentuato il vantaggio del Giappone è che ha livelli di occupazione comunque in generale più elevati rispetto all'Italia e questo ci vuole poco, cioè qualsiasi paese può combatterci ha un forte investimento su ricerca e sviluppo di nuove tecnologie sull'automazione robotica eccetera e questo sicuramente aiuta anche a rendere più efficiente la forza lavoro quindi che si riduce però è compensata quantomeno dall'investimento in questa direzione e ha di meno però l'immigrazione perché culturalmente è sempre stato un po' un paese isolato e che si è anche percepito come identità non così fluida rispetto all'integrazione e all'immigrazione e su questo recentemente sta cambiando proprio anche direzione cioè riconoscendo l'importanza che l'immigrazione ha ovviamente in maniera molto pragmatica i immigrati ti servono per i settori su cui si sta riducendo la mano d'opera e il Giappone può offrire opportunità evidentemente si resta a capire però quale modello di immigrazione il Giappone riuscirà a mettere in campo cioè è un'immigrazione solo temporanea cioè voi venite solo per lavorare perché abbiamo bisogno di lavoratori ma non siete parte del modello sociale e culturale e quindi integrato e assimilato nella società giapponese e quando non abbiamo più bisogno viene tornato indietro o comunque quando scadono i cinque anni avete fatto un'esperienza che sarà utile ma non è previsto un accoglimento di flussi migratori rilevanti che diventino parte integrante del modello sociale della cultura giapponese oppure potrà esserci anche un'evoluzione in questa direzione questo è ancora tutto da vedere però ecco quello che conta è che il Giappone si sta ponendo questa questione sta sperimentando e la sta considerando una leva possibile per dare la risposta ai squilibri di migratori direi che sono temi anche... ma con tutta la complessità e la difficoltà sì infatti il governo giapponese non sta facendo un... non sta pensando di fare un cambiamento molto drastico perché devo aggiungere che forse ci sono non poche persone che riconoscono l'immigrazione immensa negativamente attualmente circa il 70% degli intervistati si sono detti favorevoli ad allentare i vincoli all'ingresso degli stranieri dei lavoratori stranieri soprattutto quelli stranieri altamente specializzati mentre il 24% è detto contrario sì, tuttavia anche tra coloro che si sono detti favorevoli una persona su cinque è contraria all'incremento del numero degli stranieri residenti nella sua zona devo dire che ci sono tantissime analogie anche su questo aspetto con l'Italia noi meno di qualche mese fa abbiamo, forse era giugno abbiamo pubblicato un sondaggio di Antonio Noto proprio sulla percezione degli italiani sull'immigrazione e su quanto insomma potesse essere una leva anche per alcuni settori dove si fatica a trovare la mano d'opera prima citavate l'invecchiamento progressivo della popolazione che è ovviamente un dato rilevante il Giappone ha tantissimi centenari anche nella... so che c'è addirittura un giorno una festa una festa nazionale per i centenari che viene celebrata una volta all'anno pochi giorni fa l'abbiamo fatto ecco a settembre giusto? sì esatto ecco l'avevo letto e mi è sembrata una cosa bellissima per riuscire a celebrare insomma questo record che vi riguarda Alexis tu durante il tuo viaggio hai visto con i tuoi occhi ovviamente tantissime persone anziane ma qual è il tuo la tua impressione insomma è davvero una popolazione super anziana come l'abbiamo definita all'inizio o è abbastanza integrata nelle fasce di età? allora Michela io ho visto sicuramente tanti tanti anziani come se ne vedono anche in Italia la cosa che mi ha colpito è che ho visto tanti anziani a lavoro e quindi sia salaryman quindi i classici dipendenti delle grandi aziende che appunto sono ancora integrati all'interno della struttura aziendale e lavorano all'interno dell'azienda e sia poi nei servizi pubblici negli uffici pubblici vigili personale appunto legato all'efficienza poi della città della struttura amministrativa e questo mi è stato poi confermato da una ragazza giapponese che lavora all'interno di istituti culturali tra Italia e Giappone perché lei ha studiato appunto a Bologna mi confermava che fa parte proprio di un processo di una volontà da parte del governo di mantenere a lavoro di Over 65 quindi c'è proprio un patto tra aziende e paese per cercare di mantenere almeno fino a 70 anni i lavoratori a lavoro al loro posto di lavoro e questo è da un lato culturale proprio perché la parte di lavoro è vista dalla persona come una parte integrante della sua vita come una parte integrante dell'identità e di quello che la singola persona può portare alla comunità e poi però ci sono anche dei benefici economici perché ogni mese lavorato in più oltre diciamo gli Over 65 va ad integrare la parte della pensione quindi è un doppio beneficio diciamo io ho visto concretamente che questo funziona e avviene Insomma è anche questo dirai un tema che riguarda molto anche l'Italia perché stiamo discutendo insomma di età pensionabile ormai da anni e ci stiamo avvitando su questo tema da molto per cui sicuramente i temi, il confronto tra questi due paesi è sempre più vicino insomma nelle tematiche un aspetto che non abbiamo affrontato ma che mi piacerebbe affrontare tra l'altro Alexis ricordiamo che ci sono le pagine Facebook e le pagine LinkedIn dove ci potete seguire con questa diretta dove potete mandare anche delle domande ai nostri ospiti quindi adesso tra poco magari cerchiamo di capire se ne è arrivata qualcuna intanto mi piacerebbe riuscire ad affrontare un tema un po' laterale ma forse chiave visto che riguarda il futuro di questi due paesi l'uso della tecnologia, il ruolo della tecnologia all'interno di questa sfida demografica abbiamo visto ovviamente come questi paesi sono minacciati da questo aspetto abbiamo con noi anche Luca Tremolada che è il nostro collega esperto di innovazione a cui chiedo subito di riuscire a raccontarci se la tecnologia davanti al calo demografico è più una minaccia o un'opportunità allora Michela proviamo a fare un esercizio di fantasia ma fino a un certo punto ci ritroveremo più vecchi, coppie senza figli per cui più soli con una altissima probabilità di ritrovarci insomma tra over 65 ecco in questo mondo, in questa realtà le tecnologie devo dire hanno aiutato ma fino a un certo punto se guardiamo le ultime due generazioni il digital gap, cioè la differenza nella capacità di utilizzare le tecnologie tra i vecchi, tra virgolette, tra gli anziani e i giovani ha creato un solco profondissimo pensiamo a, solo per fare un po' di anedotica, ai cellulari con i tasti grossi, alla difficoltà degli anziani di usare i servizi di home banking tutte statistiche che sono state riportate sull'Italia e sull'Europa per cui insomma in questa generazione cosa ha vissuto? abbiamo vissuto un'esclusione molti over 65 hanno fatto fatica a passare dal telecomando al mouse e dal mouse allo smartphone che cosa ci possiamo aspettare dei prossimi 10-20 anni? beh, dobbiamo augurarci che qualcosa cambi, il problema centrale prima che dei servizi è stato un problema prima della concezione dei servizi digitali è stato un problema di interfaccia, no? per cui tutti quanti abbiamo imparato, hanno imparato a usare il telecomando si è fatto molta più fatica a utilizzare lo smartphone con l'intelligenza artificiale si apre uno scenario completamente nuovo che può essere anche amichevole nei confronti delle generazioni più anziane, di noi, no? io mi proietto tranquillamente avanti perché? perché innanzitutto si usa la voce queste sono interfacce che non passano, o potrebbero non passare necessariamente dalla tastiera passano dalla tastiera ma non necessariamente e potrebbero essere interrogate con il linguaggio naturale questo fa sì che possiamo immaginarci, no? in un futuro, appunto, siamo più vecchi, più anziani abbiamo bisogno di più cura, abbiamo bisogno di un accesso alla sanità più razionale ecco, di interfacciarci a questi servizi con la voce anzi, attraverso dei tutor di intelligenza artificiale allora, parliamo di qualcosa che ancora non c'è però parliamo di qualcosa su cui stanno già pensando pensate che Sam Oldman, che è il capo di ChatGBT la prima applicazione che ha immaginato per il suo chatbot è stata proprio la sanità ovvero è stato proprio quello di immaginare dei servizi sanitari dei medici dove c'è un fattore umano nel senso che il bottone fiare lo schiaccia assolutamente un dottore in carne ed osta ma tutta l'interfaccia, il dialogo e l'anamnesi viene portata avanti da un software di intelligenza artificiale e questo è un futuro che potrebbe aiutarci alla nuova normalità a una normalità difficile di declino demografico lascio allo studio questa suggestione per provare a dare una risposta Eh sì Luca, allora noi abbiamo parlato oggi del caso demografico del Giappone il Giappone è il paese più longevo del mondo ma è anche il primo produttore di robot al mondo e mi piace tenere vicini questi due record perché volevo chiederti visto che chiaramente di tecnologie ti occupi tutti i giorni ma c'è un legame secondo te tra questi due primati cioè il fatto di avere insomma per il paese che li detiene è un'opportunità o no questa automazione? Il caso del Giappone come avete detto è interessantissimo in primo luogo perché loro hanno una cultura del robot antropomorfo quindi del robot che assomiglia e si muove e imita l'uomo sia nel fisico che nei processi cognitivi che nell'interazione con l'umano che ha radici lontane solo per fare un po' di cultura pobra insomma l'ufo robot, il goldre che è arrivato da quella parte dell'Oriente così come tutta la cultura manga è nata con Astro Boy quindi con una ricerca di una risposta emotiva e umana nell'automazione e infatti come è evidente il popolo giapponese, il Giappone ha puntato sia sul fronte della ricerca che sul fronte culturale sui robot sui robot come diciamo aiuto al declino demografico ecco se penso all'Italia ecco faccio un po' fatica se guardiamo le classifiche di Eurostat su quello che è il nostro diciamo comportamento insomma la nostra attenzione alle tecnologie ecco noi siamo agli ultimi posti in Europa facciamo fatica con l'on banking come abbiamo detto figurarsi ad affidare la nostra casa la pulizia della nostra casa o anche la gestione della casa o di un pezzo della nostra vita digitale a un robot o a un automa peraltro l'Italia è un paese particolare perché siamo un'eccellenza nell'automazione industriale nel senso che a noi i robot piacciono tanto però ci piacciono le macchine utensili cioè i robot che servono a svolgere compiti specifici mentre l'idea giapponese non è tanto una macchina che fa una cosa sola ma è una macchina che è in grado di accompagnare l'uomo nella sua vita quotidiana ecco da questo punto di vista insomma l'idea di portarci qualcosa di meccanico di metallico o quantomeno di artificiale in casa qui in Italia credo che troverà pochissimi fan però certamente un interlocutore ecco un interlocutore artificiale quello stiamo vedendo che sta arrivando velocissimamente anche da noi magari non avrà l'aspetto di un robot però sicuramente potrebbe avere l'aspetto di una anzi il suono di una voce o di una scritta che compare sul computer grazie Luca è sicuramente molto suggestivo guardare a questi aspetti e abbiamo scoperto anche un'altra somiglianza tra i due paesi Italia e Giappone nell'automazione con tutte le differenze del caso do subito la parola al console Kobayashi ma la tecnologia è davvero un cuore pulsante del vostro paese e in che modo la usate in questo contesto insomma demografico? Prima di tutto siccome il dottore ha parlato del Astro Boy anche io sono cresciuto vedendo il programma Tutti noi e quindi generalmente i giapponesi non hanno una specie di ostilità nei confronti dei robot e quindi da tanti anni che nelle fabbriche ci sono numerosi robot che lavorano e forse non abbiamo abbiamo meno allergia nei confronti della digitalizzazione dei robot usati nel lavoro insomma lo vedete come una cosa più normale di noi insomma che lo vediamo invece un po' più come una minaccia naturalmente le nuove tecnologie la digitalizzazione o l'intelligenza artificiale aiuteranno a risolvere vari problemi la carenza di risorse umane aumentando la produttività del lavoro però bisogna dare un'attenzione all'intelligenza artificiale perché ci sarà qualche rischio nel futuro serve comunque l'uomo per riuscire a controllare insomma questo sviluppo delle tecnologie che stiamo vivendo però mi conferma insomma che la tecnologia è molto diffusa nel vostro paese chiedo anche ad Alexis l'hai vista concretamente nella vita dei giapponesi quest'uso della tecnologia? sì anche in aspetti che uno si aspetterebbe appunto di vedere cioè che ti possono sorprendere per esempio nella comunicazione è ormai un'agevolazione pazzesca perché essendo molto difficile per un visitatore conoscere il giapponese o comunque imparare parole al di là poi delle classiche 5 o 6 e per loro anche soprattutto se l'età è un pochino più avanzata comunicare in inglese la tecnologia aiuta perché ci si parla attraverso lo smartphone quindi noi abbiamo dormito anche nelle guest house soprattutto nella parte rurale del paese e la comunicazione avveniva tramite appunto i signori che ci ospitavano parlavano nell'iPad l'iPad traduceva dalla voce in giapponese il giapponese diventava inglese e noi allo stesso modo così riuscivamo anche a comunicare per loro era semplice perché appunto dovendo solo parlare non bisognava digitare e questo è stato la cosa più l'impatto e concreta in cui la tecnologia veramente può fare la differenza ecco nella comunicazione delle persone e questo è bello perché è proprio visto come uno strumento agevolatore probabilmente per il turismo lì diventa un elemento essenziale anche in questo senso ti chiedo se sono arrivati dei commenti da parte dei lettori ci sono un paio di curiosità allora una è sulle politiche per migliorare la cura diciamo il bilanciamento tra cura dei figli e lavoro se lo smart working o comunque il lavoro da remoto che si chiedevano se in Giappone è applicato e se potrebbe essere una soluzione considerata per incentivare appunto la natalità ecco questo lo chiediamo direttamente al console se lo smart working quindi il lavoro da remoto il lavoro da casa è diffuso in Giappone durante la pandemia sì è molto diffusa ma prima e soprattutto adesso? adesso anche sì rispetto al periodo della pandemia un po' meno però sì può essere considerato come uno strumento per aiutare a quindi ad agevolare a conciliare il lavoro e la vita insomma lo promuove il Giappone come istituto lo smart cioè la possibilità di lavorare da remoto è una cosa che sostenete come paese con la digitalizzazione forse non abbiamo bisogno di vivere per esempio a Tokyo per lavorare basta beh è meglio andare in campagna questo anche questo è un aspetto molto simile a quello che viviamo qui nel nostro paese perché c'è chi sta cercando insomma di andare a fare questo smart working dai posti più belli del nostro paese quindi sicuramente chiedo ad Alessandro di fare una riflessione su questo aspetto perché ogni volta che parliamo di calo demografico di minaccia per la crescita economica di quanto questo vuol dire si traduca in calo della mano d'opera in difficoltà per il nostro stressuto imprenditoriale c'è sempre in realtà poi il partito di chi dice però ma meno siamo meglio stiamo nel senso siamo cresciuti troppo ora stiamo in qualche modo cercando di reagire a questa crescita eccessiva della popolazione so che il tema ti è molto insomma al caro e quindi a questo punto ti chiedo ma è così davvero oppure questa decrescita è in realtà qualcosa che ne parliamo in modo sbagliato insomma nella famosa chiacchiera da bar no bisogna essere pragmatici allora la questione non è crescere come popolazione o non crescere cioè non c'è nessun obbligo che la popolazione italiana o anche giapponese o mondiale cresca cioè non è questo di per sé legato al benessere certo che è legato comunque al peso che è nello scacchiere mondiale perché l'India che è diventato il primo paese al mondo avrà un maggior peso per condizionare insomma gli equilibri e farsi sentire di più però lasciamo da parte questo aspetto l'Italia come l'Europa ma anche la Cina non possono più crescere cioè per quanto anche se da domani avessimo la fecondità che decolla e arriva al massimo possibile nei paesi più sviluppati cioè arriviamo a 1,8 1,9 che è il massimo che si può raggiungere facendo il massimo delle politiche sperimentate oggi nei paesi sviluppati si arrivarebbe comunque sotto a 2 e comunque siccome la struttura demografica sia sbilanciata avendo ridotto fortemente la popolazione in età giovanile cioè è una popolazione che prevede comunque meno giovani la fecondità anche se l'aumenti in più anche con l'ingresso e l'immigrazione non fai più tornare a crescere la popolazione quindi se il tumore è se facciamo politiche familiari in Italia torna a crescere la popolazione italiana e va a far crescere quindi la popolazione mondiale risposta no prima cosa seconda cosa anche la popolazione mondiale cresce soprattutto perché cresce la popolazione africana e le Nazioni Unite mostrano nei dati che i due terzi della crescita della popolazione africana è comunque inerziale cioè anche lì se la fecondità la portassimo subito sotto i due figli per donna siccome c'è ancora tanta popolazione in età giovanile per quanto tu diminuisci il numero medio di figli per donna ci sono tante donne in età riproduttiva e questo non si può evitare però sappiamo già che la popolazione mondiale è in rallentamento e viviamo già nel secolo in cui la popolazione mondiale non crescerà più cioè andrà a stabilizzarsi ecco noi dobbiamo gestire questi cambiamenti e guardate a livello globale dobbiamo gestire con due dimensioni perché quello che conta non è tanto la popolazione che cresce ma quello che è la caratteristica di questo secolo è la crescita differenziata la crescita differenziata ad esempio attorno al Mediterraneo cioè l'Africa che cresce come mai prima e l'Europa che diminuisce come mai prima deve trovare un punto di sintesi perché viviamo proprio nei decenni in cui queste due crescite differenziate sono più accentuate e questo poi spiega anche la necessità di gestire i flussi migratori l'Italia è proprio lì in mezzo l'altra dimensione di crescita differenziata è quella tra anziani e giovani cioè la popolazione italiana andrà a diminuire ma aumenteranno gli anziani la popolazione italiana andrà a diminuire ma diminuirà ancora in maniera ancora più accentuata il numero di giovani quindi è questo squilibrio che poi deve trovare delle risposte e deve trovare delle risposte soprattutto a favore delle nuove generazioni e dobbiamo fare in modo che questi squilibri debito pubblico aumento della spesa per gli anziani e difficoltà quindi anche a gestire un modello sociale di sviluppo che questi squilibri riesca a dare una risposta deve essere orientato al fatto che questi squilibri devono mettere nella condizione della nuova generazione di poterli gestire se il debito pubblico è eccessivo e gli squilibri demografici sono eccessivi non avremmo risorse per investire non solo nella politica familiare ma in formazione in politica attiva del lavoro in ricerca e sviluppo e innovazione e avremo quindi che i giovani italiani se ne andranno in altri paesi andranno in Germania dove questi squilibri sono più ridotti dove si investe non solo in politica familiare e loro sono riusciti a invertire la tendenza della natalità ma anche in formazione la percentuale di NIT dei giorni che lo studiano al lavoro è una delle più basse e in più investono sulla lunga vita attiva e in più investono sulle nuove tecnologie e anche sull'immigrazione ecco tutte queste leve dobbiamo fare in modo che girino assieme che siano ben integrate e soprattutto abbiano una base una visione del paese con un modello di sviluppo a cui tutti contribuiamo nel modo migliore cioè mettendo i giovani nelle migliori condizioni di poterlo fare mi sembra che non sia quindi tanto un tema di crescere o decrescere ma un tema di sostenibilità dell'attuale sistema e degli attuali equilibri che stiamo vivendo nel nostro paese dobbiamo rendere insomma i modelli più sostenibili perché ci sono diversi squilibri squilibri che si vivono anche in Giappone mi piace dare la parola al console per fargli raccontare un ultimo aspetto legato proprio alle vostre imprese che anche questa è una somiglianza molto concreta con il tessuto imprenditoriale italiano perché molte imprese in Giappone sono a conduzione familiare e a proposito di squilibri voi state vivendo questo squilibrio nelle imprese giapponesi perché manca il ricambio generazionale giusto? Sì con l'impecchiamento dei titolari delle piccole e medie imprese mancanza di successori rimane un problema molto grande quindi poi negli anni 2010 secondo un sondaggio molto recentemente oltre il 65% degli imprenditori di età superiore ai 60 anni non avevano i successori ma dal 2017 la situazione sta migliorando migliorando non peggiorando ma migliorando l'anno scorso la percentuale della mancanza di un successore sono sceso al 57,2% da notare che c'è un accelerarsi della defamiliarizzazione del nel processo di successione aziendale per quanto riguarda la successione a terzi si sta verificando una polarizzazione tra il passaggio di dipendenti interni e l'assorbimento o la fusione con altre aziende esterne si in mancanza di eredi ovviamente diventa un trend quasi necessario insomma e capita anche nel nostro paese che ci troviamo a dover affrontare insomma i famosi ricambi generazionali nel nostro tessuto imprenditoriale è un tema insomma che riguarda diverse diverse realtà e in questo ovviamente chiedo anche un'ultima battuta ad Alessandro Rosina quanto il nostro tessuto imprenditoriale dovrà nei prossimi probabilmente anni affrontare questo aspetto non solo il ricambio generazionale ma anche proprio la sfida demografica perché oggi abbiamo pubblicato sul sole un dato importante insomma la mancanza di giovani da qui ai prossimi anni quindi è un tema molto concreto insomma sì le conseguenze della bassa natalità si stanno facendo sentire ora quindi finora l'Italia si è permessa il lusso a qualsiasi livello quindi sociale politico economico di non porsi la questione demografica degli squilibri perché al centro della vita attiva c'erano le generazioni nate fino all'epoca del baby boom fino all'inizio a metà degli anni 70 che erano particolarmente consistenti quindi avevamo un asse portante all'interno dell'economia particolarmente solido quindi nonostante i limiti le contraddizioni eccetera quello lì consentiva ai paesi di avere un asse portante rilevante da qui in poi non ce l'avremo più perché le generazioni nate in quel periodo lì stanno sempre di più andando in pensione e verranno quindi progressivamente sostituite da generazioni molto meno consistenti perché la fecondità è proprio crollata dalla metà degli anni 70 alla fine degli anni 80 noi nella metà degli anni 70 avevamo un numero meglio di figli più alto rispetto alla media europea poco più di 10 anni dopo avevamo il livello di fecondità più basso al mondo i nati nella metà degli anni 60 erano oltre un milione la generazione dopo era di poco più di 500.000 e adesso siamo sotto 400.000 gli attuali trentenni sono un terzo in meno degli attuali cinquantenni quindi vuol dire che in prospettiva nei prossimi 20 anni da una forza di lavoro che è rimasta solida e consistente avremo una forza di lavoro che si riduce potenzialmente di un terzo se non agiamo con immigrazione automazione e le leve di cui abbiamo parlato perché non solo gli attuali trentenni sono un terzo in meno dei cinquantenni ma i nuovi nati sono un terzo in meno degli attuali trentenni quindi vuol dire che oltre a rafforzare gli attuali trentenni che si riducono e che però devono reggere un paese che deve crescere deve far funzionare il sistema di welfare e deve anche rendere sostenibile il debito pubblico se poi le generazioni più giovani sono ancora di meno il problema diventa veramente insostenibile quindi la risposta è nella piena valorizzazione del capitale umano delle nuove generazioni cioè formare bene i giovani con le competenze che servono oggi e domani tecniche e soft skills inserirle in maniera efficace nel mondo del lavoro cioè perdere il meno possibile nella transizione scuola-lavoro e noi ne perdiamo troppi abbiamo questo paradosso ne abbiamo di meno ma abbiamo anche tanti NIT cioè se noi trasformassimo i NIT in giovani che lavorano avremmo già un forte impulso che compenserebbe la riduzione demografica non solo se passiamo dall'occupazione femminile del 50% alla media europea o ai livelli della Germania eccetera avremmo anche lì un forte rafforzamento che va a compensare se imparassimo a gestire meglio l'immigrazione anche lì sarebbe un contributo quindi dobbiamo agire su queste leve ma nel frattempo anche sulle politiche familiari perché altrimenti anche le generazioni più giovani potrebbero trovarsi non solo nella stessa difficoltà ma una difficoltà raddoppiata grazie Alessandro direi che abbiamo esaurito il nostro tempo ma è stata una chiacchierata veramente interessante a volte guardare a paesi più lontani in realtà significa davvero guardare quasi a casa nostra perché abbiamo tantissime similitudini ringrazio ancora il console per aver partecipato a questa diretta e averci portato insomma una testimonianza diretta di quello che sta facendo il Giappone ringrazio il professore Alessandro Rosina per con la sua competenza averci guidato in questi scenari demografici e ringrazio Alexis per le sue testimonianze dirette sul Giappone grazie ancora e alla prossima puntata magari su un altro paese con qualche altro scenario demografico grazie grazie a tutti Grazie a tutti